Un bosco urbano in un'area dismessa ridosso di un'antica fornace che in futuro potrebbe essere restaurata per ospitare un museo etnografico che racconti la storia e l'economia legata alla produzione dei laterizi nel basso il trepò. Lo ha realizzato il comune di Bressana-Bottarone grazie a un progetto finanziato da Regione Lombardia con 350 mila euro, usati per acquisire l'area di circa 5 ettari e mezzo e piantumare centinaia di alberi di pregio, fra cui roveri, aceri, olmi e pioppi, creando un percorso salute in cui è già possibile passeggiare ed allenarsi gratuitamente con le attrezzature installate grazie a un ulteriore finanziamento pubblico di 30 mila euro. Il Bosco della Fornace è stato inaugurato nei giorni scorsi, nel corso della festa patronale con la presenza della fanfara dei Bersaglieri di Michelino. Questo parco è un dono che facciamo le future generazioni, ha detto il sindaco durante l'inaugurazione, un patrimonio da custodire e valorizzare, ringraziando poi Regione Lombardia, le aziende e i cittadini che hanno contribuito alla realizzazione del progetto. Una zona di smessa in fianco al torrente Coppa e all'interno una fornace che è un po' patrimonio storico di Bressana. Dentro la fornace c'è ancora un forno Hoffman di pregio e con questo finanziamento abbiamo acquisito un'area di circa 5,3 ettari che è stata completamente piantumata. Di quest'area la manutenzione per tre anni è in carico alla ditta che si è aggiudicata la gara e nel frattempo siamo riusciti a avere un ulteriore finanziamento di 30 mila euro per attrezzare quest'area con un percorso salute in cui ci si può andare ad allenare e in cui ci sono gli attrezzi per fare un po' di ginnastica. Questa area a questo punto sarà solamente un'area verde per cui sarà tolta da quello che potrebbe essere uno sviluppo di occupazione di suolo. Se riusciamo a trovare una destinazione finalizzata alla valorizzazione delle attività che si svolgevano a Bressana, parliamo tra virgolette potrebbe essere un museo delle fornaci, la proprietà si è presa l'impegno di donarci anche l'area della fornace.